Signore e signori, sono le ore 12 e 20 e quindi a TV 2000 è scattata l'ora solare. Noi siamo profondamente orgogliosi, noi siamo molto fortunati, noi siamo entusiasti, noi siamo felici di poter avere oggi nel nostro studio lei, Simona Marchini! Ho provato a fare proprio un annuncio signora, brava, 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 baci, immensi baci, prego madame, prego signora, sono confusa, lei è confusa? Sì grazie, sei tu eh? Lo so, lo capisco ma d'altra parte... Allora, questa favolosa signora, signora non è di tutto, attrice, conduttrice, regista, creatrice, donna di cultura, donna di arte, è incredibile a dirsi ma festeggerà nel mese di dicembre, lo devo dire? Eh sì. Signori, 80 voglia di Simona Marchini, 80, 80, 80, 80, non è credibile, è l'unica tua cosa non credibile, pensa Simona, tu sei credibile su tutto tranne che su questo. Guarda, purtroppo è vero, questa è una cosa vera, no ma sai perché mi stranisco io? Perché? Perché io ho tanti progetti, voglio fare tante cose e più vado avanti e più voglia di fare per i giovani, i bambini, i ragazzi che hanno tanto bisogno d'amore, di cultura, di bellezza, ecco perché c'è una strage agli innocenti in giro, no? Allora io veramente dico sempre, io spero di durare perché ho dei progetti che voglio assolutamente affrontare. Allora, questi sono i primi 80 anni di Simona Marchini e lo dico con estrema serietà, i primi 80 e lei, come fanno le persone sagge, grazie a Baldini e Castoldi che ha avuto quest'ottima idea, ha scritto Corpo Estraneo, la mia vita tra arte, musica e teatro e Corpo Estraneo è un titolo stupendo perché tu spieghi come tu ti sia sempre sentita un Corpo Estraneo rispetto alle cose favolose che hai fatto. Guarda, ma non è un vezzo, non è una cosa snob, assolutamente. Corpo Estraneo perché un po' così tutta la mia famiglia, no? Io e mia sorella, noi eravamo dei grandi idealisti, sognatori, insomma c'era un clima un po' speciale in casa. Sì, ne parliamo tra un attimo. Sì. Sì. E quindi non siamo collocabili in uno schema, non so come dire, cioè io a un certo punto ho fatto la figlia di famiglia, mi sono laureata, ho fatto ben due matrimoni, va bene, con tante problematiche. Quindi vabbè, a quel punto ero una persona piena di problemi, di cose vissute. Ma mai avrei immaginato di fare l'attrice? E per nostra fortuna l'hai fatta. Guardatela questa ragazza, guardatela questa ragazza che adesso parliamo di questa famiglia bellissima che a soli quattro anni sale sul palco. C'è un motivo, perché a volte ritarda qualcosa e arriva un suggerimento, in questo caso il tuo meraviglioso papà, se ricordo bene, dove eravate? Allora, io ero appunto piccolissima, quasi cinque anni, e papà mi aveva insegnato un sacco di poesie di Triluf, di Trilussa, così naturalmente, e cominciavo anche a leggere ma insomma era un po' presto. Però io ero una bambina bellica e post bellica, sempre con i miei genitori che erano indaffaratissimi su molti fronti. Papà, siccome bisognava portare la cultura al popolo, mise su un teatrino a Monteverde Vecchio dove abitavamo. E lo ringraziamo ancora? Sì, carino. Un teatro, insomma, da un garage. Era un po' precario il teatro, insomma, per fartela breve. La sera della prima io ero lì con loro, mamma, papà, tutti gli attori, amici loro, vabbè. E il fondale non stava su, perché è un teatro un po' così. Allora la gente cominciava, sai, a mugugnare. Oh, wow. Ma mio padre mi butta fuori dal sipario di una poesia. Io, con il mio candore ingenuo, sento un brusio, una bambina con la poesia. Invece io me nesco con una poesia di Trilussa. Qual era? Te la ricordi? Il vecchio porco. Un vecchio porco disse a certe vacche, la voglio fa' finita di fa' sta porca vita. Mi voglio mettere fracche e scarpe con lo scrocchio, un fiore in vetro all'occhio e annammene in città, in dove c'è la gente più pulita che bazzica la buona società. Fu un detto e infatto. Quasi la stessa, ogni da più arte da una contessa. Se intrufolò fra mezzo alle signore, sonnò, cantò, ballò, fece l'amore. Ma dopo qualche giorno, il vecchio porco ritornò al paese. Che? Fecero le vacche, già ritorni? Dunque la società poco te piace? No, gli ha risposto il porco. Io ce starebbe bene. Mi dispiace che ce se fanno troppe porcherie. Mamma mia! Allora, abbiamo tanto da dire. Simona Marchini sale sul palco a quattro anni recitando una poesia di Trilussa ed è soltanto per nostra clamorosa fortuna l'inizio. Papà e lo zio, papà Alvaro Marchini e lo zio, erano soprannominati calce e martello. Papà, grandi costruttori, persone però profondamente legate ad un senso di giustizia, ad un senso di saper dare agli altri. Assolutamente. E tu e tua sorella eravate... La stessa cosa. La stessa cosa. Devo dire, siete rimaste. Ma a un certo punto uno si chiede, però, questa vena comica, perché inequivocabilmente la signora Marchini, secondo me, e non devo dirlo, quando dice pronto al telefono, lo so quello che vi sta venendo in mente, quelli della notte, ma qualsiasi cosa, Simona Dica, può variare e diventare arte. Quando ti sei resa conto di essere così? Ma guarda, noi eravamo una famiglia un po' così. Cioè anche mio padre era... Chi era la parte comica a casa? Perché c'è sempre una vena comica. Papà più di tutti, ma anche mia madre era molto spiritosa. Noi ridevamo moltissimo noi quattro, insieme, con mia sorella, un'altra spiritosissima. Papà era un imitatore pazzesco. Quando doveva venire qualche signore a cena, che non conoscevamo, lui lo faceva, lo imitava perfettamente. Però mi raccomando, diceva, non ridete stasera. Non ridete? No! Noi morte con la faccia nel piatto, perché era identico. E poi c'era questa vena umbra di origine, che era spiritosa, anche ironica, ma l'ironia spesso è un pudore, no? È una forma di pudore. Quindi ci siamo abituati anche un pochettino a prenderci in giro, così a ridere. Che fa bene, vero Simona? Sapersi prendere in giro diventi ironia e autoironia, che aiuta nella vita. Sì, perché alleggerisce tutti i sensi, insomma, vari di impegno, di fatica. Di credere troppo nella propria persona. Però c'è qualcuno che le dice, no, guarda che tu devi credere in quello che fai. E questo signore si chiama Don Lurio. Quanto gli dobbiamo? Una persona... Quanto dobbiamo a Don Lurio? Una persona bellissima. Meravigliosa. Adorabile. Adorabile uomo. Don Lurio, in una splendida vacanza a Cortina, lui ballerino, coreografo, tutto, cantante, tutto, guarda Simona Marchini e intuisce. Intuisce molto di più della capacità di poter essere un'attrice. Intuisce che cosa? Sì, allora, intanto io ero lì distrutta da problemi personali. Un'amica mi aveva trascinato un po' in montagna perché ero proprio distrutta. E allora arriva Don Lurio. Io ero una massaia proprio a tempo pieno in quella fase della mia vita. e lavoravo a maglia, quindi la sera stavamo lì, io lavoravo a maglia, raccontavo le mie storie, soprattutto appunto la parte folcloristica, diciamo, dei miei due mariti, i matrimoni, Calabria e Napoli. Avevo un grande repertorio in mezzo. Lui si è divertito da matti. Poi arrivò anche Delia Scala, si aggiunse anche lei. e senza dirmi niente, lui mi segnalò a Romolo Siena. Allora, corpo estraneo, ci sono Don Lurio e Delia Scala, che ti vengono i brividi, che la vedono sferruzzare e dicono a Romolo Siena guarda che qui c'è una ragazza che forse andrebbe ascoltata. Vista, seguita, signori, stava per nascere la Simona Marchini che noi conosciamo e ve la portiamo tra un attimo a casa, ovunque voi siate, perché lei è qui a Loro Solare. A tra poco. Madame. Simona Marchini, Simona Marchini che ha scritto Corpo estraneo, La mia vita tra arte, musica e teatro, edito da Baldini e Castoldi. Simona che è arrivata a questo, siamo arrivati praticamente, a questo compleanno che le fa dire ho tanta voglia di fare tante altre cose, ma tante altre cose. C'è Don Lurio, c'è Delia Scala, c'è Simona che è un periodo che sta un po' triste, così, allora, e c'è Romolo Siena. Praticamente ti organizzano un provino. Sì. E tu ci vai? Mi chiamano la RAI per un provino, io ho tornato alla cortina con mio marito, insomma, mi chiamano la RAI, signora del provino è domani sera alle 21. Ho detto, quale provino? Ho detto io. Ma c'è un errore, siete matti? No, guardi, Don Lurio ci ha chiamato. Sì. E ho detto, Don, ma sei matto? Ma dove va? Deve fare, è tuo talento! Però, guarda, è stato un angelo, mi è venuto a prendere in taxi, da Montemario all'Eur, mi ha portato di pacca a fare questo provino, dico, ma che faccio? Racconti quelle storie là! Quelle che ho detto? Sì? E io le ho raccontate, per un'ora tutti ridevano, mi guardavano, io ero sconvolta. Due giorni dopo chiama Romolo Siena, signora, noi la vogliamo incontrare, col capo struttura, perché ci interessa molto. Io ho detto, ma guardate, qua c'è un errore, io non ho mai recitato. No, non importa, lei è un talento, venga qua, insomma, mi hanno convinto a fare il provino di Iside, la battona mitica, no? E anche lì, incoraggiata da un'altra amica meravigliosa, mi ha portato, tu lo devi fare, lo devi fare, perché io proprio ero distrutta in quel momento, vabbè. E alla fine, io dopo due nottate di insonnia, ho detto, vabbè, lo faccio, tanto, peggio di così, non posso stare. Non può andare, lo faccio, lo faccio vuoto a perdere, si dici in questi casi. ho detto tanto, una cosa buona, devo dire di me in questo senso, una volta tanto, sì, lo dico, perché non ho avuto paura di un fallimento, non ho avuto paura di affrontare una cosa così strana, così inconsueta. questo Simona, che tu racconti nel tuo libro, è una delle lezioni che tu dai e continui a dare a tante persone, perché tu sei volente o nolente, un grande esempio, sei una persona che dice, io non ho avuto paura, non è mi sono buttata, l'ho fatto, che è diverso, l'ho fatto. Ora, siccome la televisione è quella cosa, per la quale molti sono attenti, e la televisione grande, la televisione splendida, la televisione fatta con tutti i crismi, ha camminato esattamente su questo principio, c'era un signore davanti al video, o comunque c'era un signore, che qualche anno dopo, o poco tempo dopo, l'avrebbe chiamata, questo signore ci ha mandato una cartolina, ma non a noi, ha mandato una cartolina a Simona Marchini. Prego, là. Beh, Paola Muzzi, che mi dà opportunità, di salutare Simona Marchini. Simona, dunque, visto che siamo su TV 2000, tu non sei una artista soltanto, tu sei una missionaria, una missionaria della cultura, io lo so, perché ti si luccicano gli occhi, appena si parla di cultura, naturalmente pittura, tutto quello che vuoi dire, teatro, poesia, chiunque nel mondo della cultura, tu hai conosciuto, subito hai avuto un'intesa straordinaria con lui. Naturalmente, non faccio parte del mondo della cultura, però, faccio parte dei tuoi affetti, spero, come io, come naturalmente tu fai parte dei miei affetti, perché abbiamo fatto un'epopea straordinaria ai tempi di vera e della notte, e siamo rimasti molti amici, ho dei tuoi regali bellissimi, che mi ricordano sempre di te, e naturalmente ogni volta che ti vedo è una consolazione, vedere che tu continui con la tua missione straordinaria, la missionaria della cultura. Ciao Simona, un augurio affettuosissimo, tanti baci, non ti preoccupate, il tempo passa, ma basta che c'è questa roba qua e questa roba qua. Ciao, un bacio a te. Grazie, che bello, grazie. Renzo Arbore, grazie a Renzo Arbore, grazie ad Adriano Fabi che ci ha aiutato, e questa era una cartolina per te. Guarda, sono molto emozionata, perché tu sai che Renzo io lo incontrai nello studio di Giovanni Minoli, perché mi sono commossa, comunque, perché appunto ero distrutta, conoscevo Miloni e la moglie, e lui mi ha detto, vabbè ora vai a Cortina, poi vediamo, volevo lavorare in ufficio, cioè qualunque cosa avrei fatto per uscire da questo disagio. Mi capitò sta cosa, e dissi, ma Giovanni ho fatto un provino, ma va portamelo, ma glielo porto, e lui divideva lo studio con Arbore, perché lui faceva A come agricoltura, e Renzo faceva l'altra domenica. Allineamento di pianeti, sì. Gli porto sta cosa, metto in un angolo, lui guardava, arriva Renzo, sai quando l'angiolino decide che le cose devono accadere? Eh, sì. Arriva Renzo, si mette a guardare, fa ma brava questa, ma chi è, non la conosci? C'è un'amica mia, io stavo impietrita. Allora lui me lo presenta, no, Giovanni me lo presenta, lui fa, senti dammi il tuo telefono, perché appena faccio una cosa importante ti chiamo. Signori, la cosa importante era quelli della notte, e noi siamo ancora qui a ringraziare per quelli della notte, un tempo in cui, mi viene da pensare Nino Frassica, Marisa Laurito, Andy Luotto, vi siete divertiti, voi vi siete talmente divertiti, che avete fatto divertire noi, perché passava, era una, era trasparente, si guarda, c'era la genialità di Renzo, che aveva messo insieme queste persone, io sono stata l'ultima del branco, perché lui aveva ovviamente selezionato, scelto, eccetera, tutti avevano un personaggio, un ruolo, io non sapevo niente, fino a 15 giorni prima, mi chiamò a casa sua, c'erano tutti gli altri preparati, certo, monologhi, io non avevo niente, all'improvvisore mi ha fatto, tu fai la telefonista, ho detto sì signor Arbore, ma è sposata? No, no, è nata la signora mia, signora mia, ma siamo andati avanti, e mi ha detto va bene, no, dico scusa, come va bene, va bene, va bene, insomma, così siamo andati noi, alla prima puntata, e come tu saprai, non c'erano prove, no, assolutamente, le prove erano in onda, ovvero, quello che vedevamo, quello che vedevate, perché gli altri preparavano il monologo, sull'argomento di Pazzaglia, carissimo amico adorato, io mi arrangiavo, mi arrampicavo, perché dovevo fare un personaggio, mi era venuto così spontaneo, e quindi connotarlo, sto personaggio, quindi la signora tenera, ingenua, con quella bonarietà romana, così, quella che in fondo è saggia, sognatrice, eccetera, e quindi mi buttavo, dicevo delle cose, diceva delle cose, che noi ci ricordiamo ancora oggi, perché quando noi, ovunque siamo, diciamo, signora mia, stiamo parlando di Simona Marchini, cioè, è proprio quando tu entri nel vocabolario quotidiano, delle persone, c'è stato un signore, e un mito, che si è accorto, non solo della bravura da talento puro, di Simona Marchini, ma della bellezza del cuore, di Simona Marchini, si chiamava Gigi Proietti, e noi, gli mandiamo baci, a parte dobbiamo ancora credere di non vederlo più, dobbiamo ancora capacitarci del fatto che non lo incontreremo più, Però ci stiamo, dopo un anno e più, ci stiamo lentamente abituando all'idea, questo signore ti ha capita? Oggi è giornata di lacrime, perché, guarda, avevo fatto già tanto teatro, tante esperienze belle, ma Gigi lo conoscevo, ma non avevo una gran confidenza, una sera, a una cena d'amici, lui stava silenzioso, stranamente, e la padrona di casa mi ha messo in croce, dai, racconta ai tuoi matrinari, racconta, vabbè, io è imbarazzatissima, racconta, lui fa, lo dobbiamo fare a teatro, Gigi, è un aiuto, altro colpo al cuore, ma sì, vaga, poi ho detto, ma figurati, vabbè, è una cosa detta così a cena, no, ci siamo rincontrati a uno spettacolo di un'amica cara, e lui lo stesso, ma guarda, dicevo sul serio, passa altro tempo, insomma, alla fine lui mi ha detto, io lo voglio fare, senti, allora, se lo vuoi fare, tu dammi un appuntamento in ufficio, vengo, parliamo, cioè, sicura, e ne batteva il cuore a 3.000, insomma, un pomeriggio fantastico, abbiamo risolto il pomeriggio, è nata questa sua regia geniale, si è divertito come un matto con me, è stato un atto proprio di generosità, di gioco del teatro, perché ho voluto capire se questo oggetto strano appunto, questo corpo è strano, e mi chiedeva, ma ce l'hai un altro dialetto? Fammi sentire? Allora, ci siamo divertiti da matti, è nata un'amicizia meravigliosa, veramente profonda, bella, complice, e insieme abbiamo fatto, cioè io, per lui, con amici della danza, meravigliosi, abbiamo fatto il decennale del Globe, quindi un evento pazzesco, un Romeo Giulietta danza, con due stelle del Royal Ballet, perché io gli ho detto, o fai una cosa importante, oppure non ti conviene, insomma, è stata un'emozione pazzesca, c'erano dalla fraccia, la terrabusta, c'erano tutti quella sera, per dirti anche la fiducia, l'affetto che è nato, la complicità che è nata tra noi. Simone, è possibile non provare tutto questo nei tuoi confronti? C'è una, c'è una rete d'oro, che sottile, sottile, quasi non si vede, che attornia Simona Marchini e fa sì che lei brilli, luccichi, per ogni persona che incontra, che sia chi ha una grandezza che vuole condividere, come Gigi Broietti, che state cantando, beato quel momento che vi ha ascoltati, cantare con la chitarra in libertà, sia che ti incontrino, Simone, le persone che di te si fidano, il tuo pubblico si fida di te. Guarda, questa è la cosa che più mi commuove. Quando tu sei testimonial per i bambini che non hanno niente nel mondo, le persone di te si fidano. Questo l'ho capito ormai. Perché? Come fai tu a essere tutto questo? Sto gruppo elettrogeno che manda energia? Guarda, sai cos'è? Io credo una cosa, che in qualche modo, noi siamo fatti anche di un'energia, non qualcosa comunichiamo. Siccome sono stata alla fine anche molto riservata, cioè un personaggio, sì, pubblico ovviamente, però ho fatto tante cose, poi laterali, anche belle, importanti, festival, la galleria d'arte, eccetera, però io non sono stata mai fanatica, anzi, ho sempre preteso di più da me, non ero mai abbastanza, e poi sono stata sempre disponibile. Cioè, lo so, capito? Allora, se posso fare qualcosa per un altro, credo che sia la gratificazione più grande che ricevo. Simona, io per te porterei un bicchiere d'acqua a piedi, da Roma a Milano, passando per l'Appennino però, non per l'autostrada. Anche io per te farei questo. Salite e discese, adesso non farmi commuovere. Allora, signori, Simona Marchini, che, devo fermarmi? No, 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 vado avanti. Simona Marchini è una splendida mamma. Poi, aspettate, togliete il ma di mamma, la lettera M-A, ma, tenetelo da parte, questo ma, perché ci chiudiamo con questo ma, è molto interessante. È una splendida mamma, di una figlia straordinaria, che si chiama Roberta, Roberta è una psicologa, scrittrice, nostra amica, noi l'abbiamo incontrata, abbiamo avuto il piacere di ospitarla qui, all'Ora Solare, ed è anche una nonna, una nonna rock, una nonna, questa è tua figlia. quando era un po' più piccolina. Sì. Una nonna, wow, tu sei una nonna super, una nonna amatissima. Io ho un nipote, che ormai è diventato un metro e 92, eccolo, quando non era un metro e 92. Aveva 5 anni. Sì. Poi dopo è diventato altissimo, io ho un'ana, e quindi, vabbè, però, naturalmente, è l'amore più assoluto nella vita, quello per i nipoti. Per i nipoti. Prima quello dei figli, va bene, per carità. Ecco, guarda come è diventato, non so se tu capisci. Quando uscite, se lui sta un attimo così, non è piove, non ti bagni. E io sto sotto. Allora, E li vedete spesso? Adesso no, perché sta studiando nella solita Londra, non sono affatto tranquilla, ma insomma, vabbè. però studia, dovrebbe fare quest'ultimo anno ad università, e spero che lui abbia le stesse curiosità che ho avuto io nella mia vita. Gli auguro, gli auguro per arricchirsi, no? Per stare meglio, per vivere meglio. Comunque è venuto a teatro, e quando aveva 5 anni, un giorno si impuntò, e volle venire a vedermi a teatro, e facevo i quattro moschettieri all'Ambra Iovinelli, e lui sapeva già le canzoncine, proprio tutto. Perché sei proprio nonna, nonna tu. Ah sì, l'ho voduto più che ho potuto. A teatro che ha fatto? Che ha fatto a teatro? È stato attentissimo, stava impalato in prima fila, attentissimo, dopo mi ha ripetuto tutto quello che facevo. Perché nonna, nonna Simona Marchini è come Simona Marchini. Qui è un continuo arrivare di... l'ho detto, dobbiamo chiacchierare con poste italiane, perché qua è una cartonina dopo l'altra, che vola, 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 arriva e arriva a Simona Marchini. Un'altra? Ci posso fare niente. Ciao nonna, siamo a ridosso di una data molto importante, una data significativa, ossia il totantesimo compleanno, è per questo che ci andremo particolarmente a farti avere il mio affetto, seppur da lontano, qui da Londra. Come ben sai, a questa città, ma soprattutto a questa casa, associo sempre dei bellissimi ricordi d'infanzia, molti dei quali insieme a te. Mi viene in mente, ad esempio, i Natali passati qua con gli amici, quando andammo a vedere lo schiaccianoce a teatro insieme, ma soprattutto gli interminabili pomeriggi passati di un mondo incantato di Hamleys. ecco, ora che sono grande, se così si può dire, questi ricordi e questo tempo passato insieme ha una valenza ancora maggiore per me e per questo ti voglio ringraziare. Detto ciò, posso solo augurarti di continuare a splendere, di continuare a perseguire i tuoi obiettivi con tenacia, come hai sempre fatto. Un bacione, e a presto. Perché? Ma io, no, io sono, sono felice se lui, appunto, raccoglie, no, questa testimonianza per la volontà di vivere, di vivere la bellezza, di amare gli altri senza paura, perché io ho sempre detto, donare significa ricevere, non dobbiamo avere paura. Allora, spero per lui, veramente con tutto il cuore, che certe cose gli restino dentro, perché lo aiutano a vivere, non perché deve onorare la nonna. Io credo che con una nonna come te, e una mamma, e la sua famiglia, ma con una nonna come te, queste cose siano stampate nel suo cuore, siano scritte a lettere d'oro nel suo cuore. Tu, non hai lasciato andare una delle eredità di tuo papà, no? La galleria La Nuova Pesa. Come no? Tu sei una donna che, con la scuola musicale per bambini, ultima attività a San Basilio, hai portato... L'abbiamo fatto per due anni. Hai portato valore nelle aree dove questo valore stentava più ad arrivare, insomma, c'era ma stentava. Cioè, tu sei una persona profondamente generosa. Ma guarda, non lo so, sì, probabilmente... lo so io, non ti preoccupare. No, è un'impronta di famiglia. Non ti so dire, è una cosa così. Sì. Anche mia sorella, tutti noi, no? Abbiamo questa tendenza a costruire, no? Sì. a creare delle cose possibilmente belle e siccome abbiamo avuto molti stimoli appunto sul piano artistico, culturale, allora io penso, avendo avuto una grande amicizia dal professor Bollea a suo tempo, penso che oggi ci sia un bisogno estremo di aiutare i bambini e i ragazzi ad avere un'altra visione del mondo. Sì. A essere riempiti d'amore e di attenzione, non di oggetti col ditino che fa così, perché questo produce addirittura il blocco dei neuroni. C'è una cosa seria, seria, che io voglio fare nelle scuole, proprio per i genitori, per cercare di creare coscienza in genitori che magari anche così, chiaramente senza consapevolezza, fanno dei danni enormi a questi bambini. Allora, la ritroveremo. Simona Marchini ha tanto da dire, Simona Marchini. Allora, in tanti hanno bussato il mio camerino dopo le prime, quasi tutti avevano l'occhio stupito e ripetevano una frase sempre uguale, ma sei brava, ma, vi ricordate prima ho detto, ma, ecco, in quelle due lettere, M, A, ma, è racchiuso tutto lo stupore di chi non riesce giustamente a collocarmi in un percorso riconoscibile. Sapete perché? che non è somigliante a un pianeta o somigliante a un'opera d'arte. Simona Marchini è il pianeta Simona Marchini ed è l'opera d'arte, Simona Marchini. ma è troppo. Senza ma e senza se, grazie di essere stata con noi, auguri tesoro. Grazie. Auguri con tutto il cuore. Grazie, grazie. Ci fermiamo soltanto per un attimo, sì, poi ancora opere d'arte di un altro tipo, ma bellissime, fatte con la carta, vedrete. Grazie a Simona Marchini per essere stata con noi. Grazie a voi e tanti auguri a tutti voi. Ti mando tanti baci, signora mia. Grazie. Tanti, tanti, tanti. Grazie.